Siamo tornati su Mushix 2 perché oggi ragazzi andremo a scioppare da bendati Ma con questo negozio ragazzi guardate quanta roba c'è in questo negozio Come faccio io a non scioppare da bendati? Come faccio a non fare questa challenge? Oggi ovviamente punteremo a Carlos Pericolato perché è troppo bella come skin E addirittura abbiamo anche la possibilità di cliccare per sbaglio un nuovo brawler super raro Anche una mega cassa tipo a metà prezzo quindi ragazzi oggi tanta 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 roba per noi Hai solamente 3 secondi per lasciare like e se lo fai oggi sarai più fortunato su Brawl Stars Quindi 3, 2, 1, spero per te e per la tua fortuna che tu abbia lasciato like E oggi non sciopperò con la mia solita mascherina un po' femminile Bensì sciopperò con questa una sciarpa di colore rosso così la miniatura sembra più figa E quindi faccio più views Allora mi metto una cuffietta così se per sbaglio parte una partita me ne accorgo dall'audio E ragazzi vorrei anche che apprezzaste l'accostamento di colori felpa gialla sciarpa rossa Che ci sa tipo troppo bene Allora sembro quasi un impedito che non riesco a fare un cavolo di nodo Ok è abbastanza stretto Io non riesco a vedere manco i miei pensieri per quanto è stretta sta cosa Ecco se trovassi dove tefano che hai trovato Ragazzi andiamo con la prima scioppata Clicco Ho sentito una cosa totalmente a caso Che cos'è? Oh ok ok Ho trovato Ho cliccato per sbaglio sui punti energia E noi li clicchiamo Va bene punti energia bene 117 per il nostro mister P Bene 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 andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti Ok quindi punti energia come prima cosa Clicco Credo ragazzi dal suono che sia bombardino Bombardino quello dorato Ah no 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 Eh mi spiace non ce li ho Non ce li ho Non so cosa dirti Non ce li ho i punti salari E' un account nuovo va bene E riannamo 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 Clicco Che cos'è quando non sento niente mi è sempre uno spavento per me Ok Ah 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 Ragazzi è arrivato Babbo Natale Un brawler super raro nuovo Vediamo chi ci esce Penny Ragazzi grande Penny Grandissima Penny Un grande GG e un mega benvenuto alla nostra piccola Penny Ma Penny a parte qui abbiamo da scioppare Quindi qua chi non scioppa è perso Clicco Max Energy Credo che sia Maxine L'unica che dice così con la voce un po' schietta Un po' che ti sfora il timpano 30 gem E ragazzi diamo il benvenuto anche a Turbo Maxine Fatemi sapere qual è la vostra skin preferita qui su Brawl Stars Allora diciamo che Maxine era forse la skin che meno mi piaceva tra queste del negozio Però che cosa ci vuoi fare Cioè se esce quello esce quello Che cos'ho preso? Cosa gratis Sì ho preso i biglietti gratis Ok quindi Riclicco Sono di nuovo nel negozio Ogni tanto sbircio perché sennò non so dove cliccare ragazzi Mi parte qualcosa Senza senso Io vado Clicco Clicco Sembra che ho un sacco di vita Tanto è inutile Ok sono punti Devo spendere altri soldi per dei punti energia Non fanno mai male ragazzi Tanto all'infine ci stanno Ok devo dire che è molto molto più scomoda la sciarpa al posto della bandana Che è fatta apposta per coprire gli occhi Vabbè Vabbè Comunque You lose Mi sembra che sia Il primo ragazzi Sta diventando un quiz Sta diventando il quiz di Bluestar 650 gemme Manco ce le ho Bene Adesso le ho 650 gemme Quindi prendiamoci Il primo regale ragazzi Questa è anche una skin che merita Diciamocelo questa skin Ma è un vero bijou E merita abbastanza Merita così tanto che io me la vado proprio a provare Adesso instant Guardatelo lui È il primo regale Ovviamente me ne vado in footbrawl Perché ragazzi il primo mi sa troppo di footbrawl Guardateli tutti questi no skin No ok no Quel colt c'era la skin Vabbè vabbè Questi no skin avversari dai È buono che i miei compagni abbiano la skin E i miei avversari no Oddio in effetti potrebbero anche trollare Non mettere così la skin Ci sono un secco di corrente di pensiero ragazzi Tipo quando su Fortnite Non si metteva appositamente la skin Per far finta di essere nabbettini Vediamo un pochettino Eh stanno a trollare Raga questi stanno a trollare No 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 Questi non mi raccontano giusta per niente Questi non mi raccontano giusta per niente Ehi zio Ehi zio No no Questa tira Questa tira Questa tira Questa tira Mamma mia Ok Volevo far fuori quella nita Non sono riuscito Ok ora si però No 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 Ok meno male che c'è quella nita Nita però dove cacchio tiri Però pure tu eh Sono il primo regale Sono il primo regale Non puoi farmi niente Non puoi farmi Non è vero Puoi farmi tanta bua E che cacchio Ma le sto a missa tutti Ma le sto a missa tutti No ok Mi riprendo un po' la vita Se no qua Non ne faccio nulla Non arrivo più a capo Ok Le prendo io la palla La proteggo La proteggo Fino all'arrivo dei miei avversari Dei miei compagni di squadra Che rinascono Ok Butto lì la palla Ciao Ehi 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 Ok Ti ho fatto fuori La palla e le retrovie Mi faccio fuori quest'altro Il primo E mi ricarico anche la super No non sei ricaricata Per quanto poco Va bene Va bene Questa nita Questa nita Deve essere fatta fuori Ok Adesso si che ho preso Ti ho aperto la strada Ce la puoi fare Ce l'avresti potuta fare Però dai dai Ma questa partita Quanto è tirata ragazzi È tiratissima sta partita Entrambi i miei compagni di squadra Sono stati fatti fuori Non va bene Quello sta per saltare Sicuramente Non mi dire che è gol Ok Non è gol ragazzi Non è gol avversario Ottimo Ottimo Fatta fuori E ho anche la mia super bella pronta Dai Dai Ok Qui Ora Fatta fuori Mamma mia Non ci credo Non ci credo Che cosa ti sei fatta salvare Che cosa ti sei fatta salvare Però pure tu Pure tu Non si fa così Non si fa così Ma c'è 9 secondi ragazzi Io mi ficco in porta Io mi ficco in porta ragazzi Io mi ficco in porta No L'ho salvato di nuovo L'ho salvato di nuovo Non ci credo Non ci credo Manca pochissimo Sta per Tutte le case Stanno per distruggersi Ragazzi Qui andiamo a strarrischio adesso Devo farli fuori tutti Altrimenti qua Non va bene Più niente Lancia la porta No Non ti azzardare Non ti azzardare Ok Passa 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 Ok Tiro 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 E' the goal ragazzi Mamma mia Che sudata Sta partita Ovviamente La fine di questa sudata Mi merito una bella scioppata Fa pure rima E' per forza Ok Benda nuovamente messa E vediamo Che cosa ne esce fuori Clicco Ho cliccato qualcosa No Ma perché Ho stato un click Non ha cliccato Che cosa Oh La cassa La cassa Signori E noi ovviamente Ce l'apriamo la cassa 49 gemme Potremmo trovare un altro brawler Ragazzi Niente Sono 5 skip Ma cosa ci da Vediamo un pochettino 3 2 2 1 E va bene così ragazzi Continuiamo a scioppare Magari ci esce qualcosa Davvero molto figo Come Quel Carl Spericolato Ragazzi Spero davvero In Carl Quindi Ragazzi Andiamo a rimetterci La nostra band Oh Cheology rocks Archeology rocks Non ci credo Me la sono chiamata Non mi dire Che me la sono chiamata Ti prego Ti prego Sì ragazzi Me la sono chiamata Ma questa E' fortuna Spacciata La mia Prendiamolo subito Mamma mia Com'è bello ragazzi Carl Spericolato Anche su Moosh X2 Seleziono E uso Subitissimo Anche lui ragazzi Super Carl Spericolato Qui in Foot Brawl Adesso Ragazzi Correremo Più non posso Verso il gol Dai Guardati Guarda Un sfrescio Verso gli avversari E quel bull Nel frattempo Fa gol Un bull Che si chiama Jesse Non ha senso Vabbè Solo a me capitano Sti compagni Di squadra strani Ok Ti faccio fuori Vado a correre La palla No Si l'ho presa io Ok Grazie mille bro Grazie mille bro Mi fico in porta Ciao Ragazzi Partita Iper easy Iper veloce Con il nostro Carl Spericolato Ma ovviamente Rimettiamoci nuovamente La bandana Perché si continua A scioppare Oh Clicco E cliccati Che cos'è I punti per Jesse Ragazzi Così Sembro un rambo In questa maniera Va bene Lo stesso Ok GG Per noi Ultima scioppata Velocissima Ragazzi Perché Sennò Il video Vi dura Troppo E Clicco Clicco Che cos'è Niente 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 Praticamente Perché non clicca Devi cliccare Clicca Ho sentito Oh Ottimo Ottimo Ragazzi Cioè Ottimo Perché mi piace Sostenere Comunque Un'altra volta Su un altro profilo L'Australia Di conseguenza Eccola qui La nostra Nita Koala Di conseguenza Ragazzi Se questo video vi piacere Lasciate subito Un bel like Iscrivete Il canale Se non vi siete iscritti E soprattutto Seguitemi su Instagram Perché lì È importantissimo Che voi mi seguiate E quindi Ci vediamo magari In un prossimo video Ciao